capitolo 10 la chiesa bene signorina gray che cosa ne pensa del nuovo curato chiese la signorina marreia al nostro ritorno dalla chiesa la domenica dopo la ripresa delle nostre lezioni non posso dire granché risposi non l'ho ancora sentito predicare però l'ha visto sì ma non posso pretendere di giudicare il carattere di un uomo da uno sguardo gettato di sfuggita al suo volto ma non è brutto la sua bruttezza non mi ha colpito in modo particolare non mi dispiace quel tipo di fisionomia invece la cosa che ho notato in lui è il suo modo di leggere che mi pare buono infinitamente migliore almeno di quello del signor hatfield legge i precetti in modo da dare a ogni passaggio il massimo effetto anche le persone più distratte non potevano far a meno di prestare attenzione e le più ignoranti dovevano capire per forza e quanto le preghiere non pareva che le leggesse ma che le recitasse spontaneamente di tutto cuore oh sì è buono soltanto a questo può cavarsela al servizio divino abbastanza bene ma non ha alcuna idea d'altro beh come fa a dirlo oh lo capisco benissimo sono un ottimo giudice di simili casi ho visto come uscito dalla chiesa strafalciando come se fosse là da solo non guardando né a sinistra né a destra non pensando evidentemente che ad andare fuori dalla chiesa e forse a casa pranzo immagino che avrebbe voluto che gettasse un'occhiata al banco dello square di sì o ridendo alla violenza della sua ostilità al contrario sarei stata vivamente indignata se avesse osato farlo rispose ella sollevando la testa con orgoglio poi dopo un istante di riflessione aggiunse bene bene immagino che vada abbastanza bene per il suo posto ma sono contenta che non devo contare su di lui per divertirmi ecco tutto ha visto come si è precipitato il signor Hatfield per ricevere un mio saluto e per arrivare in tempo per aiutarmi a salire in carrozza sì risposi aggiungendo fra me e ho pensato che pregiudica un po' con la dignità di un ecclesiastico vederlo volare giù dal pulpito con quella precipitazione per stringere la mano allo square e aiutare la moglie e le figlie di questi a salire in carrozza inoltre gli servo rancore per avermi quasi chiusa fuori dallo sportello infatti sebbene io fossi in piedi quasi di fronte a lui di fianco al predellino della vettura aspettando di salire gli persisteva a sollevarlo e a chiudere la porta finché qualcuno della famiglia lo fermò gridandogli che non era ancora dentro la governante allora senza una parola di scusa si scostò salutandoli lasciando che il domestico terminasse la faccenda e signor Hatfield non mi ha rivolto la parola e neppure il signor Hugh o la signora Maltham né il signor Harry o le signorine Maltham né il signor Green o le sue sorelle né nessuna delle signore e signorine che frequentano quella chiesa come nessuno di quelli che frequentano Horton Lodge nel pomeriggio la signorina Murray ordinò di nuovo la carrozza per sé sua sorella disse che faceva troppo freddo per divertirsi in giardino e inoltre credeva che Harry Maltham sarebbe stato in chiesa perché disse sorridendo maliziosamente alla propria soave immagine nello specchio in queste ultime domeniche egli è stato il più esemplare dei fedeli si penserebbe che sia un buon cristiano e lei signorina Gray venga pure con noi desidero che lo veda e tanto migliorato da quando è ritornato dall'estero non lo immagina e poi avrà l'occasione di rivedere il signor Weston e di sentirlo predicare lo sentì predicare e senz'altro mi piacque la verità evangelica della sua dottrina come la profonda sincerità delle sue maniere e la chiarezza e la forza del suo stile fu veramente confortante sentire quella predica dopo essere stata abituata agli sproloqui asciutti e prosaici del coadiutore precedente alle arringhe ancor meno edificanti del parroco il signor Hatfield attraversava veleggiando la navata o piuttosto vi passava come un organo e con la sua ricca veste talare che gli fluttuava dietro che frusciava contro gli sportelli dei banchi saliva sul pulpito come un conquistatore ascende il carro trionfale poi appoggiandosi al cuscino di velluto con un atteggiamento di grazia studiata rimaneva in silenzioso raccoglimento per alcuni minuti quindi mormorava una giaculatoria e borbottava un padre nostro si alzava si toglieva un lindo guanto profumato alla lavanda per offrire alla congregazione la vista dello scintillio dei suoi anelli si passava lievemente le dita fra i capelli ben arricciati metteva in mostra un fazzoletto di battista recitava un brevissimo passo anche solo un versetto della bibbia come cappello alla predica e finalmente ci elargiva il suo componimento che in sé poteva considerarsi buono sebbene troppo lambicato e artificioso per essere di mio gradimento le frasi filavano gli argomenti erano condotti con logica eppure qualche volta era faticoso ascoltare tutta quanta la predica senza qualche sia pur leggero segno di disapprovazione o di impazienza i suoi argomenti preferiti erano le norme canoniche i riti e le cerimonie la tradizione apostolica il dovere di rispettare obbedire al clero il delitto atroce di dissentire la necessità assoluta di osservare tutte le forme di devozione la presunzione colpevole di coloro che osano pensare con la loro testa in fatto di religione o che si fanno guidare da interpretazioni personali della bibbia e di tanto in tanto per entrare in grazia dei suoi parrocchiani ricchi la necessità della deferenza e dell'obbedienza dei poveri verso i ricchi e sosteneva i suoi principi e le sue esortazioni con citazioni prese dai padri coi quali sembrava che avesse più dimestichezza che con gli apostoli e gli evangelisti e ai quali sembrava desse almeno pari importanza che a questi ultimi ma ogni tanto ci faceva una predica di tutt'altro genere che qualcuno diceva molto buona ma tetra e severa che rappresentava dio come un censore terribile invece che come un padre amorevole eppure osservandolo ero indotta a pensare che quell'uomo era sincero in tutto quel che diceva certo aveva cambiato opinione era diventato decisamente religioso grave austero nello stesso tempo che devoto ma l'illusione era di solito dissipata all'uscita della chiesa nell'udire la sua voce in allegro colloquio con qualcuno dei Melfam o dei Green o magari con le stesse marrei e nel sentirlo ridere della propria predica e dire che sperava di aver dato qualcosa da pensare alla gentaglia magari esultando all'idea che ora la vecchia Betty Holmes rinunciasse alla sua pipa peccaminosa che era stato il suo ristoro quotidiano per oltre trent'anni che Giorgio Higgins paventasse di fare le sue passeggiate serali nei giorni di festa e che Thomas Jackson avesse la coscienza profondamente turbata e fosse scosso nella sua certezza di una beata risurrezione all'ultimo giorno così non potevo fare a meno di concludere che il signor Hatfield era uno di quelli che legano gravi fardelli e li appendono alle spalle degli altri mentre essi non li toccano con un dito e che con la loro autorità rendono di nessuna efficacia la parola di Dio insegnando invece che dottrine divine i comandamenti degli uomini fui ben contenta di osservare che il nuovo coadiutore per quel che potevo vedere non gli assomigliava in nulla allora signorina Gray che cosa ne pensa di lui disse la signorina Marrei appena salimmo in carrozza dopo la predica ancora niente di male risposi niente di male ripete lei divertita che cosa intende dire intendo dire che non penso di lui peggio di quel che ne pensavo prima non pensa peggio lo credo bene proprio il contrario non è molto migliorato oh sì moltissimo davvero risposi perché allora mi accorsi che la parlava di Harry Maltham e non del signor Weston Harry Maltham era venuto tutto premuroso a parlare alle signorine cosa che non avrebbe osato fare se fosse stata presente la madre non aveva cercato di chiudermi fuori dalla carrozza ma neppure naturalmente mi aveva prestato il suo aiuto non l'avrei del resto accettato se me l'avesse offerto ma fino a quando lo sportello era rimasto aperto era stato in piedi a scherzare e a chiacchierare con loro e poi si era levato il cappello ed era andato per la sua strada io l'avevo appena notato durante tutto quel tempo ma le mie compagne erano state migliori osservatrici e durante il tragitto discussero fra loro non soltanto gli sguardi i gesti le parole di lui ma ogni tratto del viso e ogni particolare del suo abbigliamento non l'avrai tutto per te Rosalia disse la signorina Matilde alla fine di quella discussione piace a me so che diventerebbe per me un compagno piacevole allegro bene sì la benvenuta per lui rispose sua sorella in un tono di indifferenza voluta e certo continua l'altra e gli mi ammira quanto ammira te non è vero signorina Gray non so non sono al corrente dei suoi sentimenti oh ma è così mia cara Matilde nessuno ti ammirerà finché non ti libererai delle tue maniere così rozze e volgari o sciocchezze a Harry Maltham piacciono quelle maniere e così agli amici del babbo ebbene forse conquisterai uomini vecchi e figli minori ma certo nessun altro si invagherà mai di te bene in fischio non sto sempre a correre dietro al denaro come te la mamma se mio marito sarà in grado di tenere qualche buon cavallo e qualche cane sarò soddisfattissima e tutto il resto può andare a farsi friggere ma se usi con lui quelle espressioni urtanti ti garantisco che nessun vero gentiluomo avrà il coraggio di accostarsi a te veramente signorina Gray non le dovrebbe permettere di parlare così non riesco a impedirglielo signorina rosalia e ti sbagli di grosso Matilde supponendo che Harry Maltham ti amiri ti assicuro che pensa tutt'altro Matilde stava per rispondere ma fortunatamente la nostra scarrozzata era finita e la disputa fu interrotta dal domestico che apriva lo sportello della carrozza e abbassava il predellino per farci scendere capitolo 11 i contadini ora che avevo ormai una sola lieva fissa benché mi desse fastidio quanto tre o quattro e benché sua sorella prendesse ancora delle lezioni di tedesco e di disegno avevo a mia disposizione molto più tempo di quello che ne avessi mai goduto da quando mi ero posta il gioco della governante dedicavo in parte quel tempo a scrivere agli amici in parte a leggere a studiare o a esercitarmi nella musica e nel canto in parte a passeggiare per i poderi e per la campagna circostante con le mie allieve se lo desideravano o sola se non desideravano la mia compagnia spesso le signorine Marrey quando non avevano delle occupazioni più piacevoli si divertivano a visitare i poveri contadini delle terre del padre a riceverne gli omaggi o sequienti o ad ascoltare storie trite o fresche e pettegolezzi dalle vecchie loquaci o magari ad assaporare il piacere più puro di render felici poveri con la loro presenza incoraggiante i loro doni fatti con tanta poca fatica e ricevuti con tanta gratitudine qualche volta mi si concedeva ad accompagnare in queste visite una o tutte e due le sorelle e qualche volta ero pregata di andare da sola per assolvere qualche promessa che erano state più pronte a fare che a mantenere per portare qualche piccolo dono o per leggere a qualche persona malata o gravemente indisposta e così strinse alcune conoscenze fra i contadini e di tanto in tanto andavo a vederli per conto mio di solito provavo più soddisfazione ad andar sola che con l'uno o l'altra delle signorine principalmente per colpa della loro cattiva educazione esse si comportavano verso i loro inferiori in modo che mi dava molto fastidio non si mettevano mai nei loro panni per cui considerandoli come una categoria di esseri del tutto diversa non avevano nessun rispetto per i loro sentimenti osservavano questa povera gente durante i pasti facendo osservazioni incivili sui loro cibi e sul loro modo di mangiare ridevano della loro ignoranza delle loro espressioni paesane tanto che alcuni quasi non osavano spiccicar parola le persone molto anziane dei due sessi dicevano che erano pazzi e scemi e tutto senza intenzione di offendere vedevo che le persone erano spesso punte e seccate da una simile condotta benché il timore delle grandi dame li frenasse dal manifestare alcun risentimento ma le ragazze non si accorgevano di nulla pensavano che siccome quei contadini erano poveri e ignoranti dovevano essere stupidi e volgari e fin quando esse che stavano al di sopra si degnavano di discorrere di regalare loro scellini e mezze corone e articoli di vestiario avevano il diritto di divertirsi alle loro spalle e la gente doveva adorarle come angeli in paradiso poiché si abbassavano a provvedere alle loro necessità e a rischiarare le loro umili dimore feci svariati tentativi per togliere alle mie allieve queste opinioni irrate senza allarmare il loro orgoglio che era rapido a offendersi e lento a placarsi ma con poco risultato e non so qual era delle due la più biasimevole matilde era più sgarbata e vanitosa ma rosalia che per la sua età e per la sua signorilità esteriore poteva far sperare qualcosa di meglio si mostrava provocante leggera e sconsiderata come una stordita bambina di 12 anni in una bella giornata dell'ultima settimana di febbraio passeggiavo nel parco godendo il triplice piacere della solitudine della lettura di un libro del bel tempo la signorina matilde era uscita per la sua cavalcata giornaliera e la signorina rosalia era uscita in carrozza a fare con la mamma le visite del mattino ma ma mi venne in mente che dovevo lasciare questi piaceri egoistici e il parco col suo magnifico baldacchino azzurro brillante il vento dell'ovest che frusciava attraverso ai suoi rami ancora spogli la neve che si attardava ancora nei suoi avvallamenti ma che si scioglieva rapidamente sotto il sole e il grazioso cervo che brucava l'erba umida la quale già annunciava la freschezza e il verde della primavera e andare invece fino alla casetta di nancy brown una vedova il cui figlio stava a lavorare in campagna tutto il giorno e che aveva un'infiammazione agli occhi da qualche tempo ella non era più in grado di leggere con suo grande dolore perché era una donna dallo spirito serio e riflessivo quindi andai e la trovai sola come al solito nella sua casa piccola e buia che sapeva di fumo e di chiuso ma quanto mai linda e lustra sedeva accanto a un fuocherello composto di pochi tizioni rossi e di un pezzetto di legno lavorando l'esta a maglia con un piccolo cuscino di sacco ai piedi posto là per i comodi della sua amata gatta che vi stava distesa con la coda attorcigliata sopra le zampe vellutate e gli occhi socchiusi miranti con aria sognante il parafuoco ricurvo e basso ebbene nancy come sta oggi sto benino signorina gli occhi non vanno meglio ma lo spirito è sollevato come non è mai stato rispose alzandosi e salutandomi con un sorriso sereno che mi fece piacere poiché nancy era alquanto pressa da malinconia religiosa mi felicitai del cambiamento e la convenne che era una grande benedizione e mostrando se ne riconoscente aggiunse se piacerà dio di conservarmi la vita e di mettermi in grado di leggere di nuovo la mia bibbia sarò felice come una regina oh spero che dio lo voglia risposi ma intanto verrò io a leggergliela ogni tanto quando avrò un poco di tempo con frasi di gratitudine la povera donna si mosse per offrirmi una seggiola ma siccome io le risparmiai il disturbo e la si affacendo ad attizzare il fuoco e ad aggiungere qualche altra frasca ai tizioni languenti e poi prendendo dallo scaffale la bibbia asciuppata dall'uso la spolverò accuratamente e me la diede allorché le chiesi se c'era qualche passo che preferiva che le leggessi mi rispose oh se signorina grey per lei è lo stesso mi piacerebbe sentire quel capitolo della prima epistola di san giovanni che dopo qualche ricerca raggiunsi il capitolo indicatomi quando giunsi al settimo versetto e la mi interruppe e scusandosi per tale libertà mi pregò di leggere molto lentamente così che potesse sentir tutto e di soffermarmi a ogni parole che volessi scusarla poiché non era una persona istruita anche le persone più sagge risposi io potrebbero ponderare su ciascuno di questi versi e trarne profitto e io preferisco leggerli lentamente piuttosto che in fretta fini quindi il capitoletto lentamente come mi aveva chiesto e nello stesso tempo mettendovi tutta l'espressione che potei la mia ascoltatrice mi seguì per tutto il tempo con la massima attenzione e quando ebbe finito mi ringraziò di cuore rimasi in silenzio ancora un mezzo minuto per darle il tempo di rifletterci quando con mia sorpresa lo ruppe per chiedermi se mi piaceva il signor weston non so risposi un poco sorpresa da quella domanda imprevista credo che predichi molto bene si predica bene e parla anche bene davvero e si forse lei non si trattenuta con lui non ha ancora parlato a lungo con lui no non parlo mai con nessuna delle persone che vedo forché le signorine del castello oh sono delle signorine graziose gentili ma non possono parlare come lui allora è venuto a vederla nancy oh sì signorina gliene sono grata viene a vedere tutti noi poveri molto più spesso di quel che facessero il signor bligh o il curato ed è bene così perché è sempre il benvenuto non possiamo dire altrettanto del curato c'è chi ha paura di lui quando entra in una casa dicono che trova sempre qualcosa che non va e comincia una rampogna appena avarcato la soglia ma forse crede che sia suo dovere dire quel che è male e spesso viene per rimproverare le persone che non vanno in chiesa o perché non si inginocchiano non si alzano in piedi quando gli altri lo fanno o perché vanno alla chiesa metodista o per altre cose del genere ma non posso dire che egli con me abbia trovato molto da rimproverarmi venne a trovarmi una volta o due prima dell'arrivo del signor weston quando avevo lo spirito molto sconvolto e siccome stavo molto male anche di salute e bilardire di mandarlo a chiamare ed egli non si fece tanto aspettare ero profondamente sconvolta signorina gray meno male ora è passato ma quando prendevo la bibbia non potevo trarne nessun conforto quello stesso capitolo che lei mi ha letto ora mi sconvolgeva e turbava enormemente colui che non ama non conosce dio queste parole mi parevano terribili perché sentivo che non amavo né dio negli uomini come avrei dovuto e non ci sarei riuscita qualora avessi cercato e il capitoletto avanti dice colui chiamato da dio non può commettere peccato e c'è un altro punto che dice l'amore è il compimento della legge e molti molti altri signorina la stancherei se dovessi dirglieli tutti ma tutti sembravano condannarmi e mostrarmi che non ero sulla strada giusta e siccome non sapevo come rientrarci mandai il mio bill a pregare il signor hatfield di essere così buono da venire da me un giorno e quando venne gli esposi tutti i miei affanni e che cosa le disse nancy ecco signorina aveva l'aria di prendermi in giro posso essermi sbagliata ma emise una specie di fischio gli vidi un leggero sorriso sulla faccia e disse ah sono tutte sciocchezze mia brava donna lei è stata dai metodisti ma io gli dissi che non avevo mai avvicinato i metodisti e allora disse allora deve venire in chiesa dove udrà le scritture spiegate nel senso giusto invece di meditare sulla bibbia da sola in casa ma io gli dissi che quando ero stata bene in salute ero sempre venuta in chiesa ma con quell'inverno freddo e con i miei reumatismi il resto non mi arrischiava ad avventurarmi così lontano ma disse trascinarsi fino in chiesa le farà bene i reumatismi non c'è nulla di meglio che muoversi per i reumatismi può camminare per la casa abbastanza bene quindi perché non può venire fino in chiesa la verità è disse che è troppo amante dei propri comodi è sempre facile trovare delle scuse per eludere il proprio dovere invece lei sa bene signorina grey che non era così comunque lo assicurai che avrei provato ma la prego signore gli dissi venendo in chiesa quale sarà il vantaggio io ho bisogno di sapere che i miei peccati sono cancellati e di sentire che non mi saranno più rimproverati di sentire l'amore di dio fluire entro il mio cuore e se non posso trarre del bene da leggere la mia bibbia e dire le preghiere stando a casa che bene ritrarrò dall'andare in chiesa la chiesa rispose è il luogo destinato da dio per il culto è suo dovere andarci più spesso che può se desidera conforto deve cercarlo sulla via del dovere e disse un mucchio di altre cose ma non riesco a ricordare tutte le sue belle parole comunque si venne alla conclusione che sarei andata in chiesa il più possibile e avrei portato il mio libro di preghiere avrei letto tutte le risposte dopo il chierico e sarei rimasta in piedi in ginocchiata e seduti avrei fatto tutto a dovere e mi sarei comunicata ogni occasione avrei ascoltato le prediche di lui e del signor bligh e così tutto sarebbe andato a posto se avessi compiuto il mio dovere avrei alla fine ricevuto la grazia di dio ma se in questo modo non ottiene nessuna consolazione disse non c'è rimedio allora signore dissi pensa che sia una reproba ecco rispose se fa di tutto per acquistare il cielo e non ci riesce deve essere una di quelle persone che cercano di entrare per la porta stretta e non è degna e poi mi chiese se avevo visto in giro quella mattina qualcuna delle signorine del castello gli disse che avevo visto le signorine avviarsi verso moss lane ed egli gettò in terra con un calcio la mia povera gatta e corse dietro a quelle vispo come una lodola ma io ero molto triste sentivo le ultime parole pesarmi sul cuore come una morsa di piombo da non riuscire a sopportarle comunque seguì il suo consiglio pensavo che avesse delle intenzioni buone benché si servisse di strani mezzi ma lei sa signorina che egli è ricco e giovane e quindi non può comprendere i pensieri di una povera vecchia come me comunque feci di tutto per mettere in pratica quello che mi aveva detto ma forse la secco signorina con le mie chiacchiere o no nancy continui mi racconti tutto ebbene i miei reumatismi migliorarono non so se fu o no con l'andare in chiesa ma una domenica che gelò presi freddo agli occhi questa infiammazione non mi venne tutta di un colpo ma poco per volta ma sto a parlarle dei miei occhi mentre le voglio raccontare della mia inquietudine spirituale e a dire la verità signorina gray non mi pare che potessi alleviarla con l'andare in chiesa la mia salute probabilmente migliorava ma il mio spirito non acquistava nulla continuavo a sentire la parola dei ministri continuavo a leggere il libro delle preghiere ma era come un rintronar di bronzo un suonar di cembalo le prediche non le intendevo e il libro di preghiere mi serviva solo a provarmi quanto fossi impeccato poiché leggevo quelle parole sante e non miglioravo e spesso le sentivo invece che come una grazia un privilegio come per tutti i buoni cristiani come un tormento e un peso mi pareva che tutto per me fosse arido e oscuro e poi le parole tremende molti cercheranno di entrare non potranno mi gelavano l'anima per lo spavento ma una domenica che il signor hatfield parlò del sacramento notai che disse se c'è qualcuno di voi che non può calmare la coscienza ma cerca dell'altro conforto e consiglio venga da me o da qualche altro saggio e colto ministro di dio gli apra il suo cuore così la mattina della domenica seguente prima dell'ufficio andai diritta in sacrestia per parlare di nuovo al rettore non riuscivo a trovare il modo di prendermi quella libertà ma pensai che essendo in gioco la mia anima non dovevo arrestarmi dinanzi a delle inezie mi rispose che in quel momento non aveva tempo di darmi ascolto e poi disse non ho nulla da dirle se non quello che le ho già detto di prendere la comunione naturalmente di persistere a compiere il suo dovere e qualora non le serva non c'è nulla da fare così non mi infastidisca più così allora andai via ma senti il signor weston perché c'era anche il signor weston signorina era la prima domenica che si trovava a horton sa ed era in sacrestia in cotta che aiutava il curato a vestirsi sì nancy e senti che chiedeva al signor hatfield chi ero e quello disse oh una ipocrita vecchia pazza ne fui molto ferita signorina gray ma andai al mio posto e cercai di compiere il mio dovere come prima ma mi pareva di non avere pace e presi anche la comunione ma sentivo come se avessi mangiato e bevuto la mia dannazione così tornai a casa profondamente turbata ma il giorno dopo non avevo ancora finito le faccende perché signorina davvero non mi sentivo l'animo di spazzare rassettare e rigovernare e così ero seduta fra le immondizie chi entra se non il signor weston io mi alzai di soprassalto a scansare il sudiciume e a spazzare ordinare e mi aspettavo che cominciasse un rimprovero per la mia pigrizia come faceva il signor hatfield ma mi sbagliai mi dede soltanto il buongiorno con un tono tranquillo e cortese così spolverai per lui una sedia rassettai un poco intorno al fuoco ma non avevo dimenticato le parole del curato così gli dissi mi meraviglio signore che si sia preso la briga di venire così lontano per vedere un'ipocrita vecchia pazza come me parve sorpreso a queste parole ma cercò di persuadermi che il curato aveva scherzato e siccome non ci riuscì disse bene nancy non ci deve pensare tanto il signor hatfield in quel momento era un po di cattivo umore sa che nessuno di noi è perfetto perfino mosè parlò sconsigliatamente ma si sega un minuto se ha tempo mi confidi i suoi dubbi e i suoi timori e cercherò di dissiparli così mi misi di rimpetto a lui era per me un estraneo lei sa signorina gray e anche più giovane credo del signor hatfield e l'avevo giudicato meno bello di lui e a prima vista di aspetto un poco sgradevole ma parla con tanta cortesia e quando la gatta poverina gli saltò sulle ginocchia la carezzò e le fece un leggero sorriso così pensai che quello era un buon segno perché una volta quando aveva fatto la stessa cosa al curato quello l'aveva scacciata via poverina come per disprezzo e rabbia ma non ci si può aspettare naturalmente signorina gray che un gatto conosca le buone maniere come un cristiano no certamente no nancy ma che disse allora il signor weston non disse nulla ma mi ascoltò con grande attenzione e pazienza senza mai manifestare una punta di disprezzo così continuai e gli dissi tutto come ho detto a lei e anche di più ecco disse lui il signor hatfield ha ragione nel dirle di perseverare nel compiere il suo dovere ma nel consigliarla ad andare in chiesa ad assistere all'ufficio divino e via dicendo non ha specificato che non era questo tutto quanto il dovere di un cristiano e pensava che la potesse apprendere qualcos'altro da compiere e che avrebbe finito per trovare della gioia in quegli esercizi pi invece di considerarli un peso e un fastidio e se gli avesse chiesto di spiegare quelle frasi che tanto la turbavano credo che le avrebbe risposto che se molti cercano di entrare dalla porta stretta e non ci riescono è per l'impedimento dei loro peccati allo stesso modo di un uomo con un gran sacco sulle spalle che desidera ficcarsi per un piccolo passaggio e non ci riesce fino a che non lascia indietro il suo sacco ma lei nancy son certo non ha nessun peccato che non sarebbe contenta di gettare da parte se sapesse come oh signore proprio così dissi io bene continua lei conosce il primo e grande comandamento e il secondo che altrettanto importante sui quali due comandamenti si fondano la legge e i profeti lei dice che non può amare dio ma mi colpisce che non ci riesca se considera bene chi è e che cosa è egli e amore e più amore abbiamo dentro di noi più vicini gli siamo più possediamo del suo spirito vede signore dissi se potessi sempre pensare in questo modo credo che potrei amare dio come si deve ma come posso amare i miei vicini quando mi fanno del male e ce ne sono alcuni di loro cattivi e peccatori può sembrare un affare duro disse lui amare i nostri vicini che hanno del male in loro i cui difetti tanto spesso risvegliano il male che alberga in noi ma si ricordi che più felicità procureremo agli altri e più ne riceveremo noi perfino qui e più grande sarà la nostra ricompensa quando ci riposeremo delle nostre fatiche credo signorina che disse proprio queste parole perché ci ho ripensato molte volte sopra e poi prese la bibbia e lesse dei brani qua e là li spiegò chiari come il giorno e mi sembrò che una luce nuova irrompesse nell'anima mia provai un'allegria in cuore e desiderai soltanto che il caro bill e tutti quanti gli altri fossero lì ad ascoltare e a gioire con me quando andò via la mia vicina anna rogers venne dentro a chiedermi di aiutarla a lavare le dissi che non potevo in quel momento perché non avevo ancora messo sul fuoco le patate per il pranzo né lavato le oviglie della colazione così allora cominciò una requisitoria sulla mia pigrizia mi sentì un poco seccata sulle prime ma non le risposi in modo cattivo e dissi soltanto sempre con calma che avevo avuto la visita del nuovo coadiutore ma che mi sarei sbrigata più presto che potevo e poi sarei andata ad aiutarla così allora si radolci e il mio cuore si riscaldò per lei e in un momento fumotti mie amiche è proprio così signorina gray una risposta dolce di sì per rancore mentre delle parole dure attizzano la collera e non solamente in quelli a cui parliamo ma anche in noi stesse è proprio vero nancy se riusciamo sempre a ricordarcene sì se riusciamo